La Fondazione Villa Bertelli, nella ormai storica sede di esposizioni e di mostre artistiche della villa a poco distante dal centro del paese, ritorna nella Sala Treccani, nella piccola ma grande sala deputata a mostre particolari con catarsini e treccani allo specchio. Una esposizione che ha aperto oggi primo giugno i battenti e che resterà disponibile a tutti i visitatori o ai semplici curiosi, traghettando così la disponibilità artistica insieme alla esposizione nelle sale principali della villa fino alla fine di questa mostra il 31 di luglio. Una piccola esposizione riguardo Alfredo Catarsini nato a Viareggio all'ombra della Torre Matilde nella casa che fu di Ippolito Ragghianti il 17 gennaio 1899 e la cui attività artistica è di notevole interesse. Senza dimenticare il padrone di casa Treccani, della Sala Treccani appunto. Presente alla inaugurazione un piccolo gruppo di visitatori, tra loro il presidente della Fondazione Villa Bertelli, Ermindo Tucci, che dopo il successo della mostra su Andy Warhol riapre i battenti della villa e prossimamente riaprirà anche con la mostra stabile di tutta l'estate 2022. Abbiamo appena completato con un grandissimo successo la mostra di Andy Warhol e ripartiamo immediatamente con un altro grande personaggio che è Catarsini, nel quale abbiamo già avuto un'altra mostra, un importante personale, e ora invece abbiamo pensato a una cosa un pochettino diversa e nella sala da noi dedicata a Treccani abbiamo inserito alcuni quadri di Catarsini. Quindi la mostra è Catarsini che guarda Treccani, quindi è una cosa molto interessante, molto particolare, anche perché due modi di dipingere diversi, due periodi anch'essi un po' diversi, però cerchiamo di trovare quello che può essere in comune nei due artisti, il senso del mare, il senso della versiglia, il senso di forte del mare. Rituale taglio del nastro alla presenza della professoressa Elena Martinelli e della consigliera Annalisa Buselli per poi ammirare le opere e i cartelloni descrittivi dentro la sala. L'estate di Villa Bertelli, quindi per la probabile numerosa presenza turistica non solo a Forte dei Marmi, ma lungo tutta la costa versiliese, si preannuncia ricca di cultura e di spettacolo con la prossima apertura e allestimento del teatro all'aperto e anche con il salotto estivo tra gli alberi del giardino, che tanto ha riscosso successo con gli incontri estivi scorsi di scrittori e di personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, e che molto probabilmente possono ritornare arricchendo ulteriormente l'offerta di intrattenimento della villa nei tardi pomeriggi di ritorno dalla spiaggia o dall'attività sportiva lungo la passeggiata del lungomare. Grazie a tutti.